Bentornati su CiperTV, lunedì 28 gennaio 2019, iniziamo oggi una nuova settimana l'ultima settimana di gennaio e lo facciamo con degli overhead squat, andremo a costruire un heavy single quindi una singola pesante, andando ovviamente con tentativi successivi. Poi avremo 21 15 9 di pull ups, burpees e ancora una volta overhead squat, scarichi e scalature come al solito sulla grafica, per quanto riguarda il resto seguitici sui social, ci vediamo domani per un'altra volta, buona giornata.